Nei giorni sotto Pasqua 2024 ho fatto notizia una grave vulnerabilità riscontrata nel pacchetto XZ Utils adottato da molti sistemi Linux. Agli utenti di Windows o Mac OS che se la godono andrebbero ricordate comunque un paio di cose. Uno, da quando il problema è stato riscontrato a quando le distribuzioni Linux che ne erano interessate hanno ricevuto un aggiornamento di correzione sono passate poche ore. Con Windows o Mac OS non potrebbe mai succedere, l'ho documentato pubblicando i dati raccolti da Project Zero. Due, il problema è stato scoperto grazie alla natura open source. I codici sorgenti in Linux sono ispezionabili e a quanto pare sono stati ispezionati compilando una nuova versione del programma priva della funzione malevola. 3. Magra consolazione personale. Nessuno dei sistemi operativi che io abbia mai consigliato nel video recente sulle distro facili 2024 o su quelle ultraleggere o la versione stabile di Debian ne è mai stato interessato.